Se uno si toglierà l'onore, se uno si toglierà quello che hai per vivere attraverso una ingiustizia, portandoti ingiustamente al tribunale, se uno ti vorrà togliere la tua pelle stessa, perché il mantello era, secondo la scrittura, la pelle di una persona, cioè il suo bene primario, quello che gli permetteva di coprirsi durante la notte, se uno ti chiederà forzi sovraumani, per esempio, si fa ingiustizia sul lavoro, costringendoti a fare molto di più di quello che la legge consente. In quel tempo l'operaio non poteva portare un carico più di un miglio, perché erano carichi pesanti, pietre per le costruzioni, lo significava schiantarlo, ucciderlo, ti farà mobbing, se questo accadrà, ma non solo al lavoro, a scuola per esempio, molte volte capita, la scuola capita all'università, ti tolgono l'esame, ti chiedono cose che non hai studiato, se tua moglie ti chiederà qualcosa che va oltre le tue forze e che è ingiusto, perché è tuo marito, non comprendendo la tua debolezza, la tua stanchezza, i tuoi problemi, ti obbligherà a unirsi a te, per esempio, facendoti una violenza, se qualcuno veramente ti fa una violenza, una violenza psicologica, per esempio, se qualcuno ti insulta, se qualcuno ti toglie l'onore, questo gesto di dare uno schiaffo sulla guancia, destra era come durante i duelli, gettavi il guanto in forma di sfida, la mano rovescia, ti toccava con il guanto e neanche ti tocco con le mie mani, così ti si dava duello, no? Ecco, chi ti sfida duello per toglierti l'onore, per lavare nel sangue quello che lui ritiene che tu abbia fatto nei suoi confronti, tra parenti, tra colleghi di ufficio, tra vicini di casa, mamma mia, quante volte questo accade e accadrà, ci accadrà questa settimana, se qualcuno verrà a toglierti quello che è tuo o ti chiederà un prestito, e tu sai che come fai a ridartelo, se non c'è un euro, se sei in una situazione difficile, se qualcuno ti chiede quello che è tuo, immaginiamo le tasse, ingiuste, quante volte ci rubano i soldi in una forma o nell'altra, tantissime, tutte queste situazioni che possiamo ricondurre a ingiustizia, se qualcuno ti fa un'ingiustizia, seriamente, non volgere le spalle, dai la tua guancia destra, fai con lui due miglia, tutto questo sta indicando qualcosa di soprannaturale, qualcosa che va oltre le nostre capacità, qualcosa che è completamente assurdo, qualcosa che non ha nessun aggancio giuridico, cioè non è possibile, no, 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 fermati un attimo davanti a tutto quello che può accaderti, l'ingiusto, e vedi un pochino che cosa la tua giustizia, i tuoi criteri, la tua mentalità, quello che tu hai appreso, quello che è la cultura, la società, ci dice, ci insegna, ci impone, guarda un po', portare in tribunale una persona per un'ingiustizia, bene, tu pensa come tu reagiresti, ora, declinano nella vita quotidiana, declinano nelle relazioni familiari più prossime, quelle che si ripetono ogni giorno, ci renderemo conto come noi non possiamo vivere così. Ma guarda che sono cose semplici, anche prendere una strada piuttosto che un'altra, anche comprare una cosa piuttosto che un'altra, cose semplici di tutti i giorni, dove tu ti scontri con la impossibilità di andare oltre la tua carne, di andare oltre ciò che oggi proprio la parola diceva, occhio per occhio, dente per dente. Quello significa che c'è un equilibrio, una giustizia, è ugualitaria, cioè che come nasi comunicanti pareggia i conti. Noi possiamo al massimo pareggiare i conti, non possiamo fare quello che supera un pareggiare i conti, una partita di dare e avere. Dio che conosce la debolezza del nostro cuore, e la sua pedagogia nell'Antico Testamento a Mosè, Dio ha detto, intanto, occhio per occhio, dente per dente. Almeno uno per uno, non più, per arginare. Ha codificato questo perché almeno di fronte a un'ingiustizia non ci sia una moltiplicazione della reazione, cosa che senza questa legislazione della Torah accadeva negli altri popoli, come accade ancora oggi. La mafia, ma non soltanto questo, lo facciamo noi. Se tu mi cambi un occhio, io te ne cavo quattro. Infatti, anche questo compensare l'ingiustizia con un'altra ingiustizia di identico valore, di identica quantità, di entità, non è quello che fa l'uomo. È il moltiplicare all'infinito la violenza. Lo leggiamo nell'episodio di Caino e nelle pagine seguenti della Genesi, come c'è un parossismo di violenza. Fino a noi, ti arriva il diluvio. Ebbene, tutto questo che lo vediamo noi, perché se uno si fa un'ingiustizia, tu poi fai lì costantemente cercando come fargli da pagare in una forma o nell'altra, anche con l'indifferenza, anche con l'indifferenza. Ma è arrivato Cristo. E che cosa ha fatto Cristo? Questa parola di oggi si è compiuta in Lui, completamente. Sabiamo che il discorso della montagna è la sua fotografia, è il suo biglietto da visita, è la sua biografia. E qui ci entriamo tutti. Perché se uno, che sfida duello per esempio, quell'uno sei tu, quell'uno sono io. Noi, che ingannati dal demonio, abbiamo creduto che Dio ci avesse dato un'ingiustizia. Che Dio, con quel fatto nella mia vita, che è morta mia madre quando ero piccolo, che sono stato abbandonato, che i miei genitori hanno divorziato, che ho questa malattia, che la scuola mi hanno preso in giro, sono stato vittima di risultati di bullismo, che è sul lavoro, che è quello, che è quell'altro. Ognuno di noi ha una lista lunghissima di ingiustizie, patite nelle varie situazioni quando eravamo piccoli, e che continuiamo ancora oggi. Infatti, se uno commetteva un'ingiustizia nei suoi confronti, tutto questo è colpa di Dio. Il demonio ci ha detto che è stato Dio che non ci ama, che è stato Dio che avrebbe potuto fare le cose diversamente, e impedire che mia madre morisse, e impedire che quel parente allungasse la mano e mi facesse diventare così debole e così complestata nei confronti della sessualità, per esempio. Dio avrebbe potuto impedire che io nascesse in una famiglia così povera, che i miei genitori divorziassero. Questo nel passato come nel presente. Ebbene, se Dio ha permesso questo, mi ha fatto un'ingiustizia, allora io mi devo fare giustizia. Occhio per occhio, dente per dente. E molto di più che occhio per occhio, dente per dente. Tutto questo si è abbattuto su Cristo. Perché se io ce l'ho con Dio, se io ritengo che Dio mi abbia tolto un occhio, se io ritengo che Dio mi abbia tolto un dente, mi abbia fatto un'ingiustizia, io a Dio non posso fargliela pagare direttamente, vero? Io la faccio pagare attraverso i Suoi figli, attraverso quello che mi manifesta l'ingiustizia, che è mia moglie, che è mio marito, che è il compagno di lavoro, il capo ufficio, lo Stato, il Sindaco, il Ministro, allora non pago le tasse, allora mi rendico. E visto che ci sto, non solo mi lascio giustizia per quello che mi è stato tolto, prendo anche di più. E facendo così, non si siamo resi conto che l'abbiamo fatto a Cristo. A Cristo vivo nelle persone che ci sono accanto. Cristo vivo nel fratello, Cristo vivo nella moglie, Cristo vivo nel marito, Cristo vivo nei figli, nei genitori, eccetera. Siamo approfittati sessualmente delle persone. Ma anche Cristo vivo in noi stessi. Quando per fargliela pagare a Dio, l'abbiamo fatta pagare ai nostri genitori, magari non studiando, magari conducendo una vita ribelle, drogandoci, peccando in tutte le forme, come il figlio prodigo, in fondo ce l'avevamo con il nostro padre. Dammi la mia parte di verità, quella che mi spetta e che tu ti stai rubando e che mi hai rubato. Via! Questo abbiamo fatto. E tutto questo male, tutto questo fiore delenoso, di rabbia, di ribellione, di rancore, è arrivato a Cristo. Tutto questo parossismo è arrivato a Cristo. A Cristo non soltanto l'occhio hanno cavato. A Cristo hanno cavato tutto. Il Vangelo di oggi. Cristo ci ha amato di amore sovrumano. Cristo ha amato oltre la soglia dell'umano. Oltre la soglia del possibile. Cristo ha dato la sua vita oltre quel limite. L'ha superato. Ha lasciato che tu e tutti gli uomini di tutta la terra, di tutte le generazioni, vomitassero su di lui, facessero reale su di lui tutto il ruolo rancore, tutta la loro ribellione. Prendete la passione come facevano i santi che leggevano ogni giorno la passione versando latine. Leggela la passione. Vedrai che questo si è compiuto alla lettera in ogni momento, in ogni episodio, in ogni situazione della passione. Cristo spogliare la croce ha fatto ben più di un miglio portando la croce il peso delle nostre ingiustizie, la menzogna del demonio, i nostri peccati. Cristo si è fatto spogliare della tunica, è morto nudo. Cristo si è lasciato sfidare a duello e si è fatto uccidere, spogliare ogni dignità, un bel segnatore, un eretico, Dio! Dio si è fatto peccato, Dio si è fatto eretico, Dio si è fatto l'antidio davanti agli occhi degli uomini, è lasciato fingersero di tutto come un aniello muto. per te, per questo uno che ha incontrato sulla via della croce, che ha incontrato nella sua vita. Tu e Dio, ogni uomo, di fronte a questo amore sopranaturale, a questo amore che non abbiamo visto da nessuna parte, che non conosciamo, che cosa possiamo fare? Possiamo rimanere chiusi nella nostra presa giustizia, oppure veramente possiamo oggi piangere i nostri peccati, cioè lasciare a lui i nostri peccati. Ogni sacramento illuminato dalla predicazione della Chiesa ci conduce a compiere questo Vangelo consigliandogli a Cristo tutti i nostri ribellioni, tutti i nostri peccati, tutto quello che abbiamo fatto perché siamo sentiti ingiustamente privati del nostro occhio da Dio. Lasciare tutto il bene a Cristo perché Cristo ci dia il suo amore. Vai in pace! Io ti ho perdonato! Chi fa questa esperienza nella Chiesa, fratelli, è cambiato, è trasformato la sua vita, è un'altra cosa. Cristo vive in lui. Cristo vive nella Chiesa. Cristo vive in te e in me. E possiamo entrare in questa settimana da cittadini celesti ricreati, rinnovati, sanati nel profondo dall'amore di Dio. Allora, Cristo in noi potrà amare sopranaturalmente chi c'è accanto. Potremmo farci prendere in giro, potremmo farci togliere i soldi dalle tasse ingiuste, inique, potremmo lasciare che il male arrivi a noi. Non significa lasciare che il male si propaghi perché questo è quello che dice la società. Bisogna andare a pagare e sicuramente nella società è giusto, no? Una giustizia umana per arginare occhio per occhio lentamente in fondo la legislazione degli stati. Ma per noi non è così, non siamo camminati in un'altra cosa. Lascia, non resistere al malvagio, non resistere. Lascia che arrivi a te perché Cristo in te è una roccia, tu hai fondato la vita su di Lui e quella roccia su cui si infrange, si distrugge, si polverizza il male di chi c'è accanto. Questo amore è ciò che salva il mondo, questo amore è ciò che salva tuo figlio, questo amore è ciò che salva chi c'è accanto, come ha salvato noi, come salva noi. Cristo in noi come una roccia su cui si infrangono le onde altissime di chi ha dimenticato Cristo, di chi non ha conosciuto il suo amore, di chi ancora crede, di essere in credito con Dio perché gli ha tolto un occhio. Potremmo lasciarci prendere tutto, potremmo offrirci nudi, spogliati di ogni cosa, di ogni bene, di ogni onore, di ogni prestigio all'ultimo posto perché questo amore ha il potere di distruggere l'odio, il rancore e il male, di distruggere il peccato. Questo è il cielo che appare sulla terra nella comunità cristiana, il mistero pasquale che fa passare dalla morte alla vita che trascina in questo passaggio questa umanità. Ogni uomo che ci si avvicina, se uno si avvicina a te, si avvicina a te per trovare la salvezza perché cerca chi lo ami così com'è, perché cerca dove buttare tutto il suo veleno un amore senza limiti, lo stesso che abbraccia te e abbraccia me. Oggi e in ogni giorno di questa settimana e in ogni giorno della nostra vita.